Da alcuni anni sostiene la ricerca sulla tassia e aiuta nell'assistenza a pazienti e persone con disabilità. Stiamo parlando di HREF, fondazione nata a Ferrara sei anni fa. HREF è una fondazione costituita nel 2012 da 15 soci che si sono messi insieme per dare una risposta alla ricerca di una malattia genetica diffusa nel territorio ferrarese che si chiama Tassia. Questa è una malattia neurologica disabilitante che porta dopo breve tempo a peggioramenti molto molto gravi. È un'associazione che si dedica a delle malattie rare che producono la tassia. La tassia è un sindaco di tante malattie, cioè dal greco ataxis che vuol dire cattivo movimento, immobilità. E proprio in queste settimane HREF sta cercando una quindicina di volontari e volontari per la campagna di raccolta fondi che si terrà tra ottobre e dicembre in occasione delle festività natalizie. Fondi che serviranno a finanziare un progetto di ricerca scientifica iniziato due anni fa all'Università di Ferrara. Stiamo finanziando un progetto di ricerca da due anni presso l'Università di Ferrara. E' un nostro motivo d'orgoglio. A gennaio aggiungeremo al ricercatore che abbiamo finanziato fino ad oggi, aggiungeremo anche un borsista, quindi raddoppiamo il nostro interesse per la ricerca che speriamo che porti breve alla cura. L'Università di Ferrara si sta veramente dando da fare. Ha iniziato prima con Torino e poi adesso è da sola a combattere e a fare una ricerca particolare. Io faccio anche il medico per cui so le difficoltà a cui vanno incontro. Ecco, noi ci stiamo dando da fare per poter portare un sollievo, un aiuto e cercare di portare dei soldi alla fondazione.